Sono sei gli stranieri arrestati dai carabinieri di Alassio nell'ambito di un'operazione contro lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Tutta la vicenda ruota intorno a un insospettabile commerciante bengalese considerato la mente di un storizio criminale che favoriva l'ingresso in Italia di connazionali. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alassio hanno scoperto che l'uomo obbligava i bengalesi che volevano emigrare nel nostro paese a corrispondere gli 6.000 euro in contanti per partire dalla Libia via mare verso le coste italiane dove inizialmente ottenevano un permesso di soggiorno per motivi umanitari che consentiva loro poi di giungere ad Alassio. Una volta arrivati nella cittadina rivierasca venivano messi a lavorare nelle tante attività commerciali intestate all'indagato e obbligati a affittare un posto letto presso una delle abitazioni che lo stesso aveva in locazione. Chiunque osava ribellarsi a questo sistema veniva minacciato e perseguitato con vere e proprie spedizioni punitive.